Un giovane albanese di 36 anni è stato tratto in arresto per violenza e resistenza pubblico ufficiale dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Fano unitamente ai colleghi di Fossombrone. Erano circa le 22 di ieri quando è stato richiesto l'intervento dei militari in piazza Andrea Costa a Fano in quel momento molto affollata per la presenza nei pressi di un bar del posto di un uomo che molestava ripetutamente i passanti e la clientela dei locali, importunando anche alcune ragazze sedute ai tavolini. I militari hanno cercato di calmare il 36enne che però, essendo in stato di ubriachezza, si è scagliato contro gli operanti, prima minacciandoli, per poi lanciargli sedie e tavoli senza però riuscire a colpirli. L'uomo poi si è scaraventato contro uno dei militari, aggredendolo con spinte e colpi al petto. I carabinieri quindi, approfittando di un momento di distrazione del giovane, hanno deciso di immobilizzarlo rendendolo così inoffensivo. Nessuno dei presenti, tanto meno irresponsabile, ha riportato lesioni. Il 36enne albanese è stato accompagnato in caserma e dichiarato subito in stato di arresto. Oggi si è svolta l'udienza di convalida, all'esito della quale il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.